cari amici ben ritrovati in questo nuovo video voglio fare un video di storia e partirò da un sito che oramai è in rete da anni che io ho consultato più e più volte vedete molto semplice fatto con i mezzi economici che offriva libero a più di dieci anni questo sito sulla storia di roma fatto da questa persona tramonto 193 il 193 indica l'anno secondo cui è iniziato questo o perlomeno in maniera visibile evidente plastica il tramonto la decadenza e la caduta dell'impero romano questo sito è costituito da diverse pagine questa è una delle ultime perché tratta proprio la parte finale se vogliamo poi ci sono degli approfondimenti che non sono strettamente in ordine cronologico ma spiegano un pochino le istituzioni i cambiamenti sociali mentre il titolo principale per l'appunto ha un indirizzo più cronologico vorrei commentare questo interessantissimo sito fatto molto molto bene mi auguro resti in rete sempre e lo leggiamo insieme e lo commentiamo migliaia 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 di uomini passano il reno ghiacciato è la più grande invasione mai vista dai romani parliamo qui dell'invasione che avvenne il 31 dicembre almeno questo è la data che ci riportano le fonti 31 dicembre del 406 i barbari un'orda di barbari di diverse tribù invasero a cui vandali tra gli altri alani suebi eccetera invasero la gallia invasero il limes romano stavolta per non fare mai più ritorno dall'altra parte in germania non si trattò di una semplice scorreria come erano state le precedenti e non vi fu più una vittoria romana che fosse però in grado di scacciarli non i visigoti non i goti questo è bene dirlo per chi magari non lo sapesse perché i goti già erano dentro l'impero dal 300 già da prima della battaglia di adrianopoli poi rimasero lì e nei balcani e piano piano si avvicinarono all'italia in questo periodo in particolare erano già sulla frontiera orientale d'italia i visigoti di real arico l'oriente è protetto da un efficiente esercito l'occidente invece nei guai povero e difeso solo da mercenari stranieri ecco in realtà anche l'oriente in questo periodo aveva molti mercenari stranieri tuttavia aveva una popolazione più numerosa ma soprattutto aveva il denaro per pagarla in ogni caso proprio nei primi anni del quinto secolo i primi del quattrocento vi fu una grande guerra tra l'imperatore bizantino arcadio e proprio uno di questi generali goti che formavano una parte non piccola dell'esercito bizantino o chiamiamolo romano d'oriente ancora anche se di romano non aveva più nulla questo è chiaro così come del resto non aveva più nulla di romano l'esercito dell'impero d'occidente questa guerra una guerra civile tra questi barbari stranieri immigrati e arruolati come soldati e l'imperatore si concluse con la vittoria dell'imperatore che fu celebrata ed immortalata in una colonna in una colonna che è istoriata come quelle traiana come quella antonina e forse poco noto che ce n'era un'altra di antonino pio di cui rimane solo il basamento questa colonna istoriata purtroppo non esiste più esiste ancora il basamento nell'odierna istambul o istambul chiamatela come volete costantinopoli bisanzio però fu purtroppo abbattuta ne abbiamo tuttavia dei rilievi fatti a matita quando ancora era in piedi anzi ve la circuna eccola qui su wikipedia eretta nel 402 403 quindi la guerra con i goti di gainas del 400 proprio all'inizio del quinto secolo i disegni furono realizzati nel 1575 prima che venissero venisse abbattuta e demolita nel 1715 purtroppo pensate voi far abbattere la colonna traiana e quella antonina cioè una cosa che ci sembra veramente guardiamo con orrore anche alla persona meno amante della storia romana se non altro per motivi artistici gli farebbe orrore eppure i turchi che d'altronde erano una popolazione aliena e anche nemica rispetto ai greci che fecero innalzare questa colonna così come molti altri edifici e strutture pubbliche bizantine o tardo romano orientali non ebbero anche ad esempio la cosiddetta colonna bruciata la colonna di costantino e molte altre il gran palazzo eccetera ecco qui la vediamo in piccolo però si può ingrandire l'immagine vediamo che è istoriata sullo stile di quella traiana e antonina ora noi non possiamo da questi disegni stabilire con esattezza vediamo qui c'è un elefante qui c'è un passaggio di navi che non si può dire se sia il bosforo perché la guerra si combatte sul bosforo o se è un fiume anche qui un altro con una grande fortezza o forse una porta una città un assedio dei flutti una processione non si può con esattezza purtroppo da questi disegni stabilire gli eventi anche se ci vengono in soccorso alcune fonti poi consideriamo che qui ne vediamo solo una facciata ma la storia chiaramente girava tutto attorno e solo così poteva esserci una comprensione non sappiamo nulla di questa colonna ad esempio se fosse stata colorata come lo era quella traiana se vi fossero degli inserti metallici come in quella traiana che se non ci sono più vediamo che c'era una statua dell'imperatore arcadio così come c'era una statua dell'imperatore traiano e sull'altra colonna antonina quella di marca aurelio è un peccato che sia andata perduta così come l'altra colonna di teodosio che celebrava anche egli le sue vittorie sullo stile pure non sappiamo nulla sicuramente comunque possiamo farcene un'idea su quello che rimane del basamento della colonna di teodosio in cui vediamo un'arte molto impersonale che non ha più nulla a che fare col naturalismo ellenistico o col verismo romano quindi le proporzioni ma con la distinzione dei singoli volti dei singoli corpi tutto fatto ovviamente serve una mano molto esperta molto abile una mano che abbia senso artistico e qui invece nell'arte bizantina abbiamo il simbolo i simboli che dominano sul naturalismo sulla distinzione intorno del dispotismo tende a far a rendere tutti uguali ma tutti uguali anche abbassandoli quindi eliminando a priori quello che può essere l'aristocrazia aristocrazia non intendo quei ricchi ma per aristocratico intendo dal punto di vista greco del termine aristos ossia il migliore colui che si eleva sopra la massa ripeto non è una questione economica semmai possiamo dire che il migliore tende col tempo ad avere un vantaggio sui suoi simili anche economico ma non necessariamente tornando a noi a questo all'analisi di questa pagina continuiamo a leggere la città di roma viene assediata per la prima volta dopo 800 anni in 410 anzi in realtà fu assediata per tre volte se non erro una nel 408 poi un'altra e fino a quella definitiva del 410 in cui all'arico venne sempre pagato e quindi in qualche modo stornata la minaccia lui si ritirava nelle vicinanze oppure nella tuscia in etruria nell'odierno toscana però poi ritornava con nuove nuove richieste insomma tutta l'europa viene occupata dai popoli germanici e i vandali arrivano anche in africa paradossalmente la difesa di roma ormai gestita da uomini di origine germanica pensiamo a stilicone era vandalo in realtà non era assolutamente il primo di questi germanici c'era stato l'esempio di arbogaste che aveva elevato pochi anni prima eugenio e ucciso fatto uccidere o indotto al suicidio non si sa bene valentiniano secondo prima di lui in ogni caso c'era stato anche erano stati molti altri personaggi pensiamo a dagalaifo o nevitta tutti i nomi di chiara origine germanica che erano uomini di fiducia di giuliano e che poi rimasero nello stato maggiore chiamiamolo così degli imperatori successivi e se questi erano arrivati a contanto livello di altezza figuriamoci significa che già da molto tempo la truppa era permeata così come l'ufficialità dobbiamo capire che facendo un rapidissimo così panorama storico dell'esercito romano che mi viene da sorridere a farlo così in due parole però è necessario roma cercò prima di arruolare i suoi uomini solo tra cittadini e tra alleati per gli alleati solo le città d'italia avevano l'onore e l'onere di fornire uomini non gli veniva richiesto tributi venivano richiesti tributi però dovevano fornire uomini o nel caso delle città greche navi nelle città siciliane ad esempio la prima provincia fondata da roma non fu concesso questo alle città che invece vennero semplicemente considerate province città provinciali città peregrine che dovevano rifornire di denaro al passare del tempo già da molto tempo era allargata la cittadinanza romana poi con la concessione della cittadinanza romana agli italici le legioni erano costituite totalmente di italici salvo qualche rara rarissima comunità nell'età repubblicana che fuori d'italia qualche colonia poteva vantare questi diritti questo sistema arrivò ad una una situazione quasi abnorme durante le ultime guerre civili contro i repubblicani brutto e cassio poi tra la guerra tra ottaviano e marco antonio in quella fine ci si ritrovò con una sessantina di legioni che a quell'epoca erano di 5 6 mila uomini ciascuna anche se in realtà c'era l'usanza di non tenerle a effettivi completi quindi erano non possiamo immaginarci un calcolo semplice 60 per 5 6 mila però insomma erano tanti tant'è che furono poi smobilitate fino a 28 di queste 28 tre andarono distrutte e ne rimasero 25 e ne rimasero 25 che andarono distrutte nel 9 d.C. a Teutoburgo e anche di questo abbiamo delle iscrizioni rette dai parenti di qualche caduto a Teutoburgo i corpi non furono trovati o perlomeno non identificati generalmente quindi non erano vere e proprie tombe ma monumenti commemorativi ed erano italici vediamo uno ad esempio di Bologna o di Modena adesso non ricordo esattamente però insomma di quella zona lì in cui iniziava la parte dell'Italia padana che ancora in quest'epoca conservava un sostrato celtico benché tuttavia fossero cittadini romani che fossero la forza oramai dell'Italia questa grande pianura che è sempre stata per dirla come scrisse Mazzarino il punto di forza della penisola sia dal punto di vista economico sia demografico questo per la truppa mano a mano la truppa cominciò sempre ad avere meno italici ma continuarono ad esserci dal punto di vista della sotto ufficialità diciamo i centurioni anche se in realtà un centurione potremmo paragonarlo ad un capitano odierno che comanda una compagnia un centinaio di uomini o poco meno o poco più questi centurioni come ho detto in un video precedente a volte entravano direttamente come centurioni altre volte potevano essere grazie al loro coraggio promossi sul campo o nel castra come si diceva alcuni quelli che nascevano mettevano origo castra cioè nativo del campo un'altra parte erano invece degli ex pretoriani i pretoriani avevano 16 anni di ferma a differenza dei legionari che ne avevano 20 gli ausiliari invece ne avevano 25 gli ausiliari poi avevano veniva dato loro meno denaro di buona uscita però la cittadinanza con un diploma militare un diploma che ne attestava la cittadinanza anche gli altri avevano dei diplomi militari però che attestavano quella che veniva chiamata la onesta missio e cioè il congedo ordinario chiamiamolo senza disonore eccetera e tutto questo fino al secondo alla fine del secondo secolo ripeto a mano a mano la truppa sempre meno era costituita da italici già in epoca augustea sembra che in oriente si facessero leve di massa delle popolazioni orientali soprattutto galati che erano popolazioni celtiche che in età pre-ellenistica erano trasferite in Asia minore galati capadoci non si reclutavano fino a tempi molto avanzati gli egiziani perché non veniva considerato un popolo la provincia d'egitto è sempre stata un po' particolare sia per il suo tipo di governo non vi potevano accedere i senatori era considerata una specie di proprietà privata la scala del principe il princeps era l'unica provincia dove non potevano accedere i senatori quindi era una provincia governata da un prefetto di rango equestre il cui grado diciamo era secondo nella scala gerarchica dei cavalieri solamente a quello di prefetto del pretorio questo significa che anche le legioni presenti all'interno della provincia mi sembra che fossero due non me lo ricordo esattamente se non erro la settima ferrata o la decima ferrata comunque li trovate e più avanti poi la seconda traiana ma adesso parliamo ancora del periodo agusteo le legioni avevano a capo sempre un senatore un legato un legato che aveva come in secondo in comando un tribuno lati clavio un tribuno lati clavio era un giovane senatore accanto a questi c'erano quattro tribuni angusti clavi che cosa significa? il lati clavio era la fascia rossa nella toga quando era larga significava che era un senatore quando era stretta era un cavaliere e quindi capite che il primo comando e il secondo comando erano di senatori poi veniva il prefetto del campo il ruolo di prefetto è sempre associato ad un cavaliere ma nelle legioni egiziane poiché i senatori non potevano visitare neanche visitare questa importante provincia capite bene che si esercitava anche dal punto di vista militare dal punto di vista dei cavalieri il massimo grado cioè il comando di una legione oltre ovviamente a quello del comando della stessa provincia poi verrà chiamato l'augustale il prefetto augustale quello che poi terminò ignominiosamente confondendosi questo ruolo con un ruolo di vescovo arcivescovo o patriarca anzi meglio patriarca di Alessandri l'ultimo patriarca fu Ciro se non ricordo male che vendette letteralmente la città di Alessandri e la provincia agli arabi ma questo parliamo nel 642-43 con la fine del secondo secolo oramai le truppe erano in larghissima parte locali soprattutto da nubiane però gli italici erano ancora in larghissima maggioranza si ritiene l'80-85% nei pretoriani e soprattutto continuavano a fornire l'ufficialità inferiore cioè centurioni e l'ufficialità superiore cioè i tribuni sia quelli cavalieri gli angusti clavi sia i tribuni lati clavi ad esempio abbiamo una fonte su questi tribuni che svolgevano generalmente ruoli amministrativi in Plinio il Giovane e i legati comandanti di legione dopo Settimio Severo non farò adesso la cronistoria di tutto però diciamo lui eliminò il corpo dei pretoriani esistente lo rifondò su nuove basi non più pretoriani italici cioè l'arruolamento non più basato sull'Italia o sulle province più romanizzate generalmente quindi possiamo indicare l'anarmonese o la baitica o betica se preferite la pronuncia ecclesiastica o anche dalla Macedonia l'assassino di Pertinacci nel 193 cioè al limite proprio in cui questi ultimi pretoriani prima che venissero congedati con disonore da Settimio Severo era dell'attuale Tongres che è in Belgio mi sembra comunque nel nord nord-ovest della Francia un caso un po' particolare quindi dopo di lui si reclutò quindi nel bacino danubiano non solo però lui fece anche un'altra cosa e cioè prese a modello le legioni egizie e d'ora in avanti tutte le nuove legioni lui ne creò tre la prima seconda e terza partica di cui una la seconda la mise in Italia cosa inaudita perché solo i pretoriani era 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 consentito come forza armata a disiedere in Italia le legioni certo potevano spostarsi all'interno se necessario ma era ancora vivo quel precetto che impediva entro i sacri confini d'Italia che esistesse una forza armata la forza armata doveva rimanere fuori generalmente non poteva stabilirsi però oramai questi precetti si erano perduti nel tempo la seconda partica la sistemò ad Albano esiste tuttora l'accampamento che sopravvisse per un secolo la città poi si sviluppò lì dentro queste nuove legioni erano come quelle egiziane cioè non c'erano più i comandanti senatori ma erano comandate da dei prefetti ancora fino a Gallieno tuttavia le altre legioni vennero comandate da dei senatori nel frattempo però insieme ai pretoriani insieme a questo declino dei senatori anche il senato oramai cominciava ad essere costituito da stranieri si stima che oramai non più di un terzo del senato fosse italico ed era sempre più forte la tendenza già a partire da Traiano a mettere come governatore un senatore che fosse originario della stessa provincia e probabilmente questo aumentò ulteriormente questa tendenza venne meno tuttavia anche quella ufficialità di rango equestre che era espressione dell'Italia e con Gallieno i senatori venne addirittura proibito il servizio militare e molti di loro accolsero con gioia questi senatori che erano stati i più bellicosi un ambasciatore di Pirro li definiva un'assemblea di re i più bellicosi creatori dell'impero dello stato romano si appagavano infine di di svolgere la loro vita privatamente senza grossi turbamenti lasciando quindi i mercenari reclutati in provincia o addirittura all'estero tra i barbari la difesa delle proprie vite dei propri beni e dello stato quindi sempre più lontano sempre visto con con più disincanto che cosa successe beh in pratica non si sa con esattezza ma di fatto bastò eliminare il legato senatorio il tribuno lati clavio che il più alto in grado rimase il prefetto del campo che probabilmente assunse quindi il comando dell'intera unità a cui era preposto e nessuno cambiò più questa situazione a parte che poi di lì a 50 anni dopo la stessa lo stesso ruolo lo stesso ordine dei cavalieri di fatto scomparve rimase quello dei senatori ma in linea di massima si può dire che lo stato inizialmente è costituito da tre ordini plebe cavalieri e senatori poi si divise in due due ordini gli onestiores e gli umiliores ma lo vedremo anche questo che cosa successe alla truppa durante il terzo secolo il terzo secolo fu un'età che oggi si definisce di cambiamenti non c'è dubbio che fu di cambiamenti ma di cambiamenti drammatici una crisi economica spaventosa una crisi delle coscienze una crisi politica una crisi militare continue sollevazioni continue guerre civili e continue invasioni non vanno sottovalutate le invasioni esterne anche se oggi purtroppo molti storici tendono a farlo e questo significò la perdita di molti soldati non solo quelli arruolati ma anche quelli arruolabili perché se la popolazione civile soffriva moriva servono quasi vent'anni per fare una recluta nel vero senso della parola se però vengono uccise le madri ancora prima di aver generato o i bambini voi capite che non ci potranno essere neanche i soldati questo lo aveva capito bene Traiano che cercò di risollevare in un'epoca in cui ancora le province avevano molto da dare all'impero Adriano cercò il suo successore di allargare la base di forza di sostegno all'impero appunto grazie alla gioventù provinciale Traiano cercò di fare un'altra cosa sapeva che anche se lui era originario della Spagna ma era originario di antenati italici sembra Umbri non si sa bene se questo cognome se questa Gens Ulpia e questo cognome lui se li sia presi tramite padre o nonno che siano stati adottati è una cosa un po' incerta comunque lui sentiva questa ascendenza e cercò di risollevare l'Italia che sapeva come centro culla della Romanità dell'impero che però stava già da Vespasiano almeno forse anche da prima cedendo sempre più cedendo soprattutto la mancanza di soldati e quindi attivò le istituzioni alimentari in cui mi piacerebbe fare un video specifico ma non è questo il caso nel terzo secolo i soldati che si sono distinti sono i rudi figli della frontiera danubiana e balcanica in fin dei conti se pensate ai balcani oggi o come sono stati nel corso degli ultimi secoli i balcani voi siete abituati a sentire che l'Italia è una terra di passaggio di grandi invasioni in realtà l'Italia è stata una terra abbastanza tranquilla certo abbiamo subito le nostre invasioni ma non più di altri paesi forse meno invece i balcani sono stati sempre una terra di continuo scontro passaggio dell'oriente sia l'oriente asiatico che l'oriente cioè l'oriente intendo asiatico quello profondo delle pianure sarmatiche siberiane e poi cinesi ma anche l'oriente medio oriente pensate ai turchi ottomani che sono arrivati alle porte di Vienna quindi se li sono percorsi e ripercorsi andate e ritorno tutti i balcani e non senza conseguenze i popoli germanici sono penetrati dai balcani prima che dal Reno pensiamo ai visigoti e ci torneremo gli avari che erano un popolo mongolo così come gli unni sono passati di lì prima di andare sul Reno o in Italia o comunque prima di andare in Italia sono sempre passati dai balcani e così poi gli slavi che poi hanno colonizzato i bulgari i bulgari non sono una popolazione slava ma sono una popolazione di origine turca turcomanna insomma la popolazione originaria possiamo dire che sia stata completamente annientata sicuramente quella fatinizzata non rimase e non rimane più nulla della popolazione che con tanta fatica era stata romanizzata anche se in maniera incompleta tutto quello che volete dagli imperatori dei primi due tre secoli se voi pensate a come erano ridotte l'Italia e la Gallia nel sesto settimo secolo in cui le città quasi non esistevano più ma ancora c'era qualcosa cominciavano a sorgere i conventi i monasteri in cui si ripartiva da lì in qualche modo l'economia la cultura nei Balcani non c'era niente di tutto questo le città erano state distrutte completamente le uniche città che sopravvivevano erano quelle ancora in mano o meglio fortezze più che città tessalonica e poi giù nella punta estrema meridionale e qualche isoletta ancora c'erano delle fortezze che rimanevano perché inaccessibili e Costantinopoli perché anche Costantinopoli anche se orientata totalmente verso l'Asia è però una città balcanica perché sta nella penisola balcanica ma a parte queste non c'erano nient'altro forse c'era qualcosa ancora si salvava nella Dalmazia a Spalato l'antica salona la popolazione cercò di trincerarsi all'interno del palatium o palatium se volete l'ecclesiastica che era stato di Diocleziane da lì Spalato ma all'interno dei Balcani non c'era più nulla le grandi città e fortezze ci tengo a precisare fortezze di Sirmio di Ratiara o Raziara come preferite ce ne sono diverse poi allora di Siscia Viminacio Nicopoli Naisso la stessa Naisso che era la città di nascita di Costantino non esistevano più e voi pensate nel secondo o terzo secolo anche un giovane dei dintorni di queste città mettiamo Viminacio era conscio della forza anche quindi lo attraeva probabilmente molti giovani andavano accorrevano a queste città queste fortezze legionarie che erano diventate città ma rimanevano fortezze dove c'era un'educazione virile dove la guerra la marzialità era ancora e forse molto più sviluppate che non l'Italia repubblicana di Roma repubblicana perché c'era una rozzezza diffusa noi non abbiamo praticamente nessuna informazione sui intellettuali di questa zona tutto ciò che sappiamo di questo territorio è che la popolazione era dedita all'agricoltura alla pastorizia e alle armi si allenavano nelle foreste a caccia di grossi cinghiali o addirittura combattendo a mani nude gli orsi delle cose che probabilmente per noi risultano incomprensibili eppure voi pensate a questi balcani odierni dove ancora ancora questa terra da popolazioni dure oggi gli albanesi si ritengono discendenti di questi liri non ho detto nulla di questi lirici gli liri si ritiene che siano un sostrato locale appunto illirico non meglio identificato e celtico scelto illiri perché i celti durante i secoli molto precedenti alle invasioni diciamo nel quarto quinto secolo l'invasione romana Cesare si estesero dalla Gallia percorsero ancora una volta però in senso inverso rispetto a quello solito di solito l'invasione avviene sempre est-ovest invece questa volta ovest-est percorsero i balcani attraversarono lo stretto e andarono a sistemarsi in Anatolia in quella che fu poi la Galazia o Galatia e ho parlato dei Galati arruolati a manbassa nelle legioni orientali fin dall'inizio dell'impero romano da Augusto intendo e queste popolazioni dovevano essere affascinate dall'esempio di forza che derivava loro da queste fortezze legionari fortezze inizialmente non stabili di legno come era nella tradizione romana italica e appunto c'erano italici almeno nel primo secolo dopo Cristo però mano a mano soprattutto dopo Adriano con Adriano poi le fortezze non fisse vennero si dice il fenomeno di pietrificazione e cioè quelle fortezze vennero finalmente stabilite come fisse definitive via i pali di legno che dovevano comunque essere sostituiti immaginate voi ogni volta il legno dopo dieci anni è rovinato vennero costruiti delle mura in pietra di edifici in pietra e questo è quello che rimase poi come eredità nel terzo secolo che poi fu ulteriormente sviluppato nel quarto in una strategia la grande strategia dell'impero romano vi consiglio l'Utvak che fu di difesa perché voi capite che un impero uno stato un esercito che gioca all'attacco non gli sta tanto comodo una fortezza fissa è meglio invece un accampamento mobile che si sappia costruire bene questo accampamento mobile che poi ha salvato tantissime volte gli eserciti romani in marcia da attacchi improvvisi ma non era più quello che i romani dell'epoca volevano e pensate a quanta tuttavia nonostante questo nuovo tipo di romanità questo nuovo tipo di visione della guerra romana pensate a questi giovani giovani contadini analfabeti o pastori che combattevano con le fiere per dimostrare la loro forza o tra di loro posso solo immaginare le botte che si davano per per sbrigare le loro controversie vedevano nell'esercito romano un simbolo di potenza e di forza che li affascinava così come affascina oggi le forze armate molti giovani eppure tutto questo già nel quinto secolo non esisteva più non esisteva più una linea di frontiera la pannonia che aveva dato tanti imperatori soldato che aveva dato tanti soldati era sotto il comando degli unni non esisteva più nulla e vi ho fatto una panoramica di dell'esercito romano forse un po' lunga ma era necessario era necessario una volta venuto meno il potenziale umano romanizzato delle province gli imperatori fono giocoforza costretti a rivolgersi oltre frontiere quindi ai barbari e li arruolarono a man bassa perché se nell'impero il problema era demografico di scarsità di uomini oltre la frontiera in Germania c'era invece una grande vitalità una demografia in crescita costante da secoli ed è questo che fa la differenza niente di più niente di meno oggi certo abbiamo la tecnologia che consente a pochi almeno idealmente di avere un grande potere una grande moltiplicazione delle loro forze ritorniamo ai moltiplicatori di forza che sono le armi rispetto ad una massa che non ne ha o che ne ha più deboli perché se si fosse esattamente allo stesso livello voi capite che il numero allora è potenza in realtà non è così semplice perché anche se nello scontro diretto e subitaneo è vero che il moltiplicatore di forza ha la sua importanza però se i numeri sono troppo sbilanciati alla fine il numero finirà per prevalere o viene eliminato quel numero in qualche modo sgonfiato o gonfiato dall'altro lato in maniera tale che si bilancino oppure finirà non subito non come in una battaglia campale ma nel corso dei decenni o dei secoli finirà per prevalere durante l'impero romano la differenza di tecnologia di addestramento non era così elevata come potrebbe essere oggi quella tra gli US Army ad esempio e qualche gruppo malinarnese di terroristi tuttavia e infatti l'impero romano ha subito anche delle sconfitte anche nel momento di maggior splendore anche durante la repubblica romana ci furono delle sconfitte perché la differenza tecnologica e di addestramento e di equipaggiamento non era così enorme da garantire in ogni caso la vittoria così come le mitragliatrici Gatling riuscivano a garantire ad un pugno di uomini la supremazia assoluta da parte degli eserciti delle potenze europee quando si spingevano in Africa ma nonostante queste sconfitte a volte dovute più all'astuzia pensiamo a Teutoburgo che ad una vera forza superiore Roma riuscì sempre grazie alla sua finché mantiene la sua superiorità economica e politica a sfangarla tuttavia nel quinto secolo siamo in un periodo in cui questa superiorità venne meno e torniamo nella nostra lettura l'enorme impero costruito dalla città eterna si è trovato incredibilmente privo di risorse umane la differenza fra oriente e occidente è tutta lì quello ancora degli uomini disposti a difenderlo questo no nel senso che proprio non ci sono più soldati fisicamente sono tutti morti o per la crisi economica che ha portato carestie povertà ed epidemie terzo secolo o sul campo di battaglia la gloria di Roma è ormai lontana gli episodi rovinosi sono stati talmente tanti da lasciare gli eserciti letteralmente prive di soldati ed uno di questi potrei ricordarlo è stata la famosa battaglia di Murzia in cui stando alle fonti perivano oltre 52 mila soldati da una parte e dall'altra ma comunque uomini che e c'erano tanti barbari già tanti barbari uomini che combattevano almeno idealmente per Roma ma oramai dire Roma è qualcosa di un non senso in realtà questi uomini combattevano per gli imperatori che pagavano non c'erano più i consoli di una volta che combattevano i loro soldati e i senatori che erano ufficiali che combattevano per l'idea di Roma per la repubblica per la gloria questi combattevano per soldi o al più per difendere o affermare l'autorità del loro capo l'idea di Roma era quasi del tutto assente oramai gli altri uomini i civili sono religiosi servi contadini o commercianti che comprensibilmente non hanno la minima intenzione di combattere e rischiare la vita per uno stato ormai assente e qui mi viene in mente un paragone fate sempre caso che quando io parlo anche di storia c'è sempre vado è a doppia linea c'è sempre qualche riferimento all'odierno questa frase è illuminante oggi non c'è più la coscrizione non c'è più la leva giusto in quasi nessun paese europeo gli stati sono sempre considerati più assenti e forse nemici dei popoli europei che infatti li vogliono sostituire con del materiale umano che ritengono più più malleati grave errore a mio parere ma soprattutto se questi stati che hanno educato i popoli europei da decenni di pacifismo di antimilitarismo che si fondano su eserciti piccoli l'esercito italiano oramai non ha più di 150.000 combattenti non possiamo pensare che poliziotti e carabinieri siano annoverabili tra questi perché sono due cose diverse una forza di polizia può essere coraggiosa quanto volete ma non avrà mai nessuna speranza contro un esercito organizzato e la popolazione dite le cartoline precetto chi ci va a combattere per uno stato del genere i civili religiosi servi contadini o commercianti ma pensate la massa di disoccupati gli impiegati gli operai che cosa vedono in questo stato ma parlo per tutti gli stati europei in generale voi ci andreste a combattere per questo stato probabilmente sono le domande che semmai qualcuno si è posto nella Roma non antica ma nella Roma oramai tarda anche la plebe locale ma non lo so semmai si sono posti questo problema perché era talmente oramai fuori da ogni loro concezione di vita il prendere le armi perché sapevano che lo avrebbe fatto ci avrebbe pensato l'imperatore oggi si dice non si può lasciare tutto nelle comunità così che devono fare le comunità locali lo stato deve aiutare lo stato qui lo stato là ma lo stato siamo noi lo stato non sono quei quattro mangia pane a tradimento che traggono le imposte per poi farci quello che vogliono non solo per intascarle magari sarebbe fosse solo quello lascerei correre ma dare denaro anche all'estero o a istituzioni ladre schifose che agiscono contro gli interessi nazionali e sono orgogliose di farlo sono orgogliose di farlo e lo fanno sempre più apertamente che tanno denaro in giro per veramente per per pratiche non voglio non posso essere più preciso ma manifestamente antipopolari antinazionali contro il cittadino medio e allora perché il cittadino medio se dovesse arrivare la cartolina precetto dovrebbe agire ci hanno imbevuti di pacifismo di 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 odio per la guerra di orrore per qualsiasi genere di violenza anche se poi ci sono non c'è più la violenza pubblica quella dello stato ma abbiamo violenze private a non finire e non solo non ci si può neanche difendere da queste violenze private che sia un'aggressione così perché uno ti sta antipatico o che sia un'aggressione per derubarti o per qualche altro fine criminoso ecco perché questa Europa è quanto di più simile al basso impero romano nessuno vuole più difenderlo ma le istituzioni che tengono i popoli europei per le palle si mantengono perché grazie al denaro delle imposte pagano e danno una burocrazia hanno delle forze di polizia delle forze armate ma che non sì per tenere buoni le decine di milioni di popolazioni atterrite ed inorridite dalla guerra vanno anche bene ma non per fare una guerra vera ad un nemico vero un nemico che ti avanza con i carri armati non che ti mette una bombetta qui e là per terrorizzare i civili tra l'altro non i capi e quindi ecco perché quando si va a toccare una popolazione in belle che non conosce le armi neanche le vuole conoscere non vuole saperne nulla è come se affondassi un coltello rovente in una barretta di burro in questo clima di fine dei vecchi tempi segnata da interminabili guerre violenze i popoli romanizzati si sono affidati in massa ad una nuova religione monoteista la dottrina cattolica è divenuta l'unica mentalità in grado di rassicurare la popolazione umana l'organizzazione spirituale della chiesa sostituisce l'organizzazione civile dello stato la società ha una nuova visione del mondo l'imperatore ha ceduto per legge il sontico potere religioso e i sacerdoti cristiani l'educazione e la cultura divengono totalmente a carattere religioso non c'è bisogno che faccia il parallelo su quanto scritto qui che l'autore non credo proprio che ha scritto questa cosa prima del 2005 probabilmente non aveva non aveva neanche idea è un dato di fatto però che si rischia se tu non porti dei valori e i valori non possono essere questi signori miei questi i valori della cosiddetta multicultura della tolleranza del pacifismo dei diritti che poi sono diritti per chi diritti gay diritti per quello diritti per quell'altro però non il diritto ad esempio a portare le armi non il diritto a difendersi non il diritto a contribuire in maniera fattiva all'organizzazione dello stato alla sua difesa e protezione perché queste sono roba loro roba loro e così facevano gli imperatori tant'è che Giustini hanno ad esempio un secolo dopo questi eventi ma già possiamo immaginare come fosse la situazione proibì i sudditi non posso chiamare i cittadini ormai da un bel pezzo di possedere qualsiasi tipo di arma qualsiasi tipo di arma non potevano fabbricarla né venderla né nulla gli unici autorizzati i soldati e gli addetti alle fabbriche di stato che producevano armamenti ce ne erano ancora alcune poi chiusero dopo Diocleziano nel disfacimento e paradossalmente spazzato via l'impero burocratico si sopravvisse l'impero bizantino ma sopravvisse in maniera molto più libera in un certo senso da Eraclio in poi perché lo stato non aveva più modo di arrivare in maniera capillare a rompere i coglioni alla gente e allora la gente tra un'invasione e l'altra una scorreria e l'altra degli arabi si organizzava da sé c'era il tema locale non voglio adesso andare troppo oltre però il tema era una circoscrizione militare dominata da uno stratego questo nell'Anatolia che organizzava le forze armate i militari erano tutti proprietari di di appezzamenti quindi erano contadini erano gente locale erano civili e soldati un esercito che costava pochissimo perché il soldato aveva come come paga la stessa rendita del suo terreno e ovviamente era armato era armato aveva le sue armi in casa e alla chiamata doveva presentarsi armato che fosse un fanto che fosse un cavaliere nella sede indicata dallo stratego tutto questo aveva raggiunto il non plus ultra invece al tempo di Giustiniano sia solo soldati mercenari e una popolazione civile in belle d'altronde parliamo degli asiatici che non erano mai stati non si erano mai segnalati per una grande un grande attivismo militare ecco e lo stesso anche di più in occidente in occidente addirittura l'impero crollò del tutto c'erano i regni barbarici feudi legge zero i primi editti furono solamente nel nel tardo settimo secolo quindi potete immaginare intere generazioni nate vissute e perite in un in un ambiente totalmente senza legge e poi anche con gli editti non è che cambiasse molto la cosa pensiamo all'editto di Rotary che addirittura neanche teneva praticamente in conto la vita degli italici ma solo quella dei liberi che era però i liberi si intende i longobardi e qualcosa di simile avvenne anche negli altri paesi quindi si era passati paradossalmente da un periodo come sempre capita perché la storia è un pendolo avanti e indietro come sempre capita si era passati da un periodo di totale controllo da parte dello Stato non potevi fare più niente addirittura i coloni cittadini romani erano cittadini legati schiavi considerati schiavi della terra il fenomeno del colonato così in basso era decaduto lo status di Romano figuriamoci il possedere armi figuriamoci l'avere un addestramento militare figuriamoci l'antica figura del cittadino che partecipava alle decisioni politiche ed era anche un soldato perché il cittadino che partecipa alle decisioni politiche ha interesse a mantenere in vita quell'ordinamento che lui stesso ha contribuito a creare e a sostenere ma se il suddito non ha nessun tipo di interesse non contribuisce a nulla è un povero analfabeta che si utilizza solamente come schiavo per coltivare la terra e per riprodursi con una che magari non interessa al padrone perché possiamo anche immaginarsi loius primen octis ad esempio non è che che sia un'invenzione esclusivamente barbarica io immagino che le donne di questi contadini non è che se la passassero benissimo le donne le figlie se il padrone voleva se le prendeva ma questo adesso per dire sarebbe interessante fare una ricerca anche su queste cose perché queste cose rappresentano delle questioni che per quanto dal punto di vista storico possano sembrare marginali dal nostro punto di vista di uomini invece dovrebbero interessarci molto perché ci fa rendere conto fino a che punto si può arrivare ammesso che ci sia un fondo del barile io credo che non ci sia un fondo del barile credo che dopo che sia arrivata al fondo si possa continuare a scavare anche la terra sotto rompere rompere il fondo di legno e scavare sotto la terra andare sempre più giù sempre più giù se non si mette una pezza e la cosa peggiore è che quando la popolazione si abitua a qualcosa anche qualcosa di orrendo poi non c'è più modo soprattutto soprattutto se è una popolazione che vive nell'oscurità che non ha neanche gli esempi se tu non hai esempi che c'è qualcosa di diverso di migliore come fai ad immaginare la tua vita diversa da quella che ti hanno proposto non puoi ecco allora spiegato come è possibile che quei romani antichi che avevano nel disgusto più assoluto il solo termine di re la sola idea del dispotismo orientale i loro discendenti meglio non i loro stessi ma i loro discendenti com'è possibile che abbiano alla fine accettato supinamente il potere assoluto di un spesso di un depravato pensiamo è la Gabalo ma anche lo stesso Giustiniano o Arcadio o tanti altri soggetti con un potere assoluto che non aveva nulla più in comune con l'antica ideologia romana e uno si chiede come è possibile che i romani antichi non guardassero indietro ad un passato che era molto più vicino a loro che a noi e dicessero basta riorganizziamo le legioni di un tempo sbaragliamo questa tirannia oppressiva e rifondiamo la repubblica con i suoi consoli i suoi pretori le sue istituzioni non era possibile perché la gente oramai era abituata semplicemente a vivere in quella situazione in cui avevano vissuto per sempre i loro padri e nonni quindi voi capite che l'educazione e che l'abitudine sono importantissime e possono cambiare davvero tanto un popolo basti vedere vi faccio un esempio emblematico i discendenti dei vichinghi oggi i terribili vichinghi che facevano scorrerie in tutta Europa occidentale oggi gli svedesi al 75% si definiscono femministi svedesi maschi e già avete un buon esempio per capire che cosa intenda leggo solo quest'ultimo paragrafo e poi chiudo perché sto facendo veramente un video troppo lungo altrimenti ma ci tornerò l'impero di Roma è giunto alla fine della sua parabola le grandi legioni di una volta organizzate come gli eserciti moderni si sono dissolte sotto la pressione di una guerra allogorante i romani antichi che per primi avevano avviato una lunga fase di conquista territoriale stendendo i loro possessi dall'Italia all'Europa all'Africa all'Asia minore e al Medio Oriente ma già nei primi secoli dell'era cristiana man mano che le frontiere si allargavano si allontanavano dalle città sicure dedicate al commercio molti cittadini persero la voglia di combattere l'ideologia conquistatrice si offuscava fra i non combattenti si diffusa una sorta di pacifismo sia laico che religioso poi la rotta si è invertita i popoli nemici hanno iniziato a sfondare le frontiere romane adesso per legge tutti gli abitanti dell'impero sono considerati cittadini romani ma non hanno niente a che vedere con i guerra fondai dell'antica Roma anzi ora osteggiano apertamente la violenza leggo anche questo ma poi non lo commento e lo commento una prossima volta solo vi do il là l'aggancio il cliffhanger come direbbero gli angolofili mentre la vecchia ideologia romana battagliere politeista lasciava il posto a una diversa visione della vita pacifista e monoteista divenne sempre più difficile organizzare un esercito di leva gli imperatori avevano a che fare con i potenti locali che proteggevano i loro sottoposti gli uomini comuni preferivano diventare dipendenti o servi dei padroni piuttosto che rischiare la vita in un'allogorante guerra difensiva i militari la cui presenza era comunque necessaria per vigilare le frontiere ed opporsi alle spedizioni nemiche aumentarono le richieste economiche diventarono dei professionisti remunerati contemporaneamente l'impero sovranazionale si è trovato circondato da vari popoli nemici all'inizio delle prime irruzioni dal nord lo stato ha spremuto tutte le sue risorse economiche offrendo adeguati stipendi ai nuovi soldati abolendo le desuete distinzioni inobiliari di classe permettendo anche i contadini di arrivare ai ruoli di comando così mentre la gente comune si rifugiava nella chiesa i militari comuni si possessarono dello stato a scapito della decadente aristocrazia politeista vi lascio qui grazie per l'ascolto e proseguiremo la prossima volta non so adesso se domani o i prossimi giorni se volete iscrivetevi al canale rimanete rimanete in ascolto stay tuned come dice qualcuno per completare questa questa analisi questa pagina di questa pagina ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti